Il 10% degli occupati in Toscana lavora nel mondo delle professioni e il numero degli iscritti a ordini, collegi e associazioni è in costante aumento, una fetta importante del PIL regionale del cui futuro si è discusso a Firenze nel convegno Le Professioni Intellettuali in Toscana, in un teatro della compagnia gremito di rappresentanti di quel mondo professionale che sempre meno appare come sinonimo di benessere e che negli ultimi anni, per colpa della crisi, ha visto ridursi il fatturato, sceso sotto i 50.000 euro nel 60% degli studi professionali campione esaminati nella ricerca IRPET Social Hub. Dal palco il presidente della regione Toscana ha ricordato come la Toscana sia stata la prima regione a estendere le risorse europee agli studi professionali, a istituire una commissione regionale delle professioni intellettuali con la legge regionale 73 del 2008 e poi nel 2017 a equiparare i professionisti alle imprese per accedere alle risorse messe a disposizione dai bandi europei di FSE e FESR 2014-2020, opportunità di cui molti studi professionali in Toscana hanno approfittato e che ora, è stato chiesto dagli stessi professionisti, devono essere ampliate, come? Con un cambio di prospettiva. Dal punto di vista della commissione emerge il panorama che credo sia un panorama italiano, non solo toscano, cioè di una grande complessità del mondo delle professioni, di grandi criticità, di alcuni elementi che sono critici per la natura stessa dell'essere liberi professionisti, invece altri elementi che sono critici perché è critica comunque la situazione economica del paese, è critica l'attenzione che viene data alle professioni, cioè normalmente finora delle professioni ci se ne occupava veramente poco, ma perché? Perché non erano considerate una parte del tessuto economico nazionale di cui ci si dovesse occupare. E invece i numeri dicono che quello dei professionisti non è un mondo a sé stante se gli iscritti agli ordini e ai collegi in Toscana sono 148 mila, cioè 39 professionisti ogni mille abitanti, 4 in più rispetto alla media nazionale, e se sono 150 mila quelli non iscritti ad associazioni professionali, i più numerosi sono medici, dentisti e infermieri, in tutto 54 mila, seguiti da ingegneri, avvocati, architetti, geometri, commercialisti, farmacisti, psicologi, giornalisti e notai, tutti alle prese non solo con una riduzione delle entrate, ma anche con la burocrazia. Gli adempimenti sono sempre di più, sono sempre più complessi, sono sempre più a carico del professionista, per cui io devo pensare che metto a produzione il 50% delle mie ore perché l'altro 50% c'è in una serie di incombenze. Ora, quindi questo rende ancora più complessa la situazione, poi l'elenco potrebbe essere molto lungo. Le gacci che rischiano di complicare molto l'attività delle imprese professionali toscane, che già di per sé tendono a essere molto piccole e che ora chiedono aiuto, anche perché è stato detto nel corso della tavola rotonda sul palco dell'evento fiorentino, un mondo delle professioni qualificato e competitivo aiuta a ridurre i costi complessivi che gravano sul prodotto finale, in altre parole fanno girare meglio l'economia. La crisi che ha attanagliato tutta l'economia e tutti gli strati sociali abbia ovviamente portato dei problemi anche al mondo delle professioni intellettuali in termini occupazionali, di impegno e di sviluppo dei studi professionali che sono piccoli di per sé, come risulta da uno studio dell'IRPET di pochi anni fa, non superano nella maggior parte dei casi i cinque addetti, ma abbia anche schiacciato verso il basso quello che sono la redditività dei singoli professionisti, abbassando ulteriormente quello che è così tradizionale, eccetto medio, professionale, riducendo quindi i loro margini di operatività e anche quindi di sviluppo e anche quindi di investimento e anche quindi di crescita. Da qui la volontà della regione toscana di venire incontro alle esigenze dei professionisti con misure che ad esempio riducano il dumping sulle tariffe che spesso riguarda anche questi ambiti professionali, ma anche contro le liberalizzazioni eccessive che rischiano di schiacciare più di quanto la crisi non abbia già fatto le imprese e gli studi che in realtà continuano ad aumentare di numero. A livello toscano gli ultimi dati disponibili relativi agli anni tra 2006 e 2013 mostrano infatti una crescita del 53% degli iscritti a ordini e collegi, una crescita che però ha più facce. Numericamente in realtà sono aumentate nel numero degli iscritti, ma questo fenomeno come abbiamo ampiamente illustrato durante la mattinata è anche perché è un effetto paracadute di quello che è la mancata occupazione nel mondo del lavoro. Quindi il giovane che non trova spazi in altri ambiti, molto spesso l'ultimo miglio lo trova aprendo una partita IVA e facendo un'attività di professione intellettuale. Un'attività che alle condizioni attuali è costellata di rischi che ricadono su studi generalmente molto piccoli, a tal punto che solo nel 19% dei casi, proprio per le dimensioni ridotte, riescono ad avere e retribuire praticanti. Il 79% di loro ha approfittato del progetto regionale Giovani Sì, una delle misure messe a disposizione dalla regione descritte ai partecipanti anche nel corso degli workshop. L'ultima in ordine di tempo riguarda i voucher formativi per i professionisti sopra i 40 anni, con mezzo milione di risorse e con contributi che possono andare da un minimo di 200 euro a un massimo di 3.000. Possono farne richieste ai lavoratori autonomi, quelli iscritti all'albo di un ordine, di un collegio o di un'associazione professionale, oppure alla gestione separata IMSS che abbiano compiuto 40 anni entro la data di scadenza ultima per presentare la domanda. Conoscendo quello che fanno le altre regioni, io devo dire che la regione toscana ha fatto mille. Il problema non è la regione toscana, quanto piuttosto il fatto che rispetto alla complessità, all'accalisticità e a tutti i temi che dobbiamo affrontare, non voglio dire che è una goccia nel mare, però indubbiamente il lavoro da fare è ancora tanto. Insomma, in Toscana di passi avanti ne sono stati fatti tanti, da quando nel 2004 la legge regionale 50 aveva disciplinato i rapporti con le libere professioni intellettuali, una scelta che, è stato spiegato, ne ha fatto fin da ora una peculiarità a livello nazionale. La Toscana è una peculiarità perché prima regione in Italia ha percepito questo bisogno, questa necessità di interlocuire con questo segmento professionale, con questo segmento importante della società civile. Ha quindi messo in atto un sistema di interlocuzione prima e poi un intervento legislativo con la legge 73 del 2008 proprio per creare un raccordo sinergico fra i professionisti in mondo delle professioni così parcellizzate e così rarefatte in varie specializzazioni e l'ente regionale, quindi gli uffici e quindi anche il legislatore. In tutto le misure attivate a favore dei liberi professionisti dalla regione sono una decina, alcune espressamente rivolte ai giovani. D'altra parte quasi la metà degli studi professionali è formata da giovani. Nel 48% dei casi, infatti, sono messi su da persone sotto ai 40 anni, a fronte di un 29% costituite da persone tra i 40 e i 50 anni. Tra le opportunità ci sono un fondo di garanzia e di contributo in conto interessi per i giovani professionisti, i praticantati retribuiti, i voucher per i co-workers, gli incentivi per le imprese, ma anche il microcredito per creazione di impresa, il fondo di microcredito in aiuto agli investimenti, fino agli aiuti per l'efficientamento energetico degli immobili. C'è un fondo di rotazione per i professionisti che a questo punto inizialmente aveva degli interessi per chi vi accedeva, adesso la regione si è assunta non solo le garanzie sul prestito, ma anche la copertura degli interessi. Abbiamo dei voucher per la formazione dei professionisti che sono nell'ordine dai 200 ai 500 euro, ma per andare a fare master all'estero o comunque un master di tipo annuale arrivano fino a 3.000 euro. Non è una somma infinita, ma non è poco, mi sembra un buon impegno. E ora si guarda avanti. Di recente la legge regionale 73 del 2008 è stata modificata per adeguarla ai cambiamenti del mondo delle professioni e di recente è stato anche creato un osservatorio dell'IRPET con il compito di monitorare le professioni in Toscana.